Era il sogno erotico di tutti, ma è stata l'attrice più infelice del nostro cinema. Sembrava la vicina di casa semplice, ma si rivelò misteriosa e inavvicinabile. Una favola moderna che divenne una storia drammatica. Ma prima, sigla! Il primo pensiero che mi viene in mente, volendo definire Laura Antonelli, corrisponde a due parole che vi appariranno banali. Era bellissima. Tutto qui? Beh, Lucchino Visconti andò oltre e la definì la donna più bella dell'universo. Salvatore Samperi, regista che più di tutti la fece diventare celebre, ingaggiandola per i due film Malizia e Peccato Veniale, che attribuirono a Laura Antonelli l'identità della donna più desiderabile del mondo, il simbolo dell'erotismo. Sandro Parenzo, oggi un prestigioso imprenditore nel mondo del cinema e della televisione, all'epoca lo sceneggiatore prediletto da Samperi, ricorda l'Antonelli così. L'idea della servetta che eccita tutti i maschi di casa la pescammo un po' da vitaliano brancati. Calze velate, buco della serratura, silenzio d'appartamento, rumore della doccia. Fu un miracolo. E così, grazie alle consuetudini di stima e simpatia con Salvatore e con Sandro, ebbe il privilegio di incontrare qualche volta Laura, la dea dell'amore, incontri occasionali, formali e superficiali, sufficienti però per trasmettermi l'immagine della contraddizione della sua personalità e della favola moderna che rappresentava. Aggiunse, dunque, Laura Antonelli sembrava la vicina di casa semplice e alla portata di tutti, la ghiotta preda di una conquista in apparenza facile, ma allo stesso tempo rivelava una bellezza aristocratica e misteriosamente particolare, raffinata e inavvicinabile. Disse ancora Devi l'impressione, parlandole, di poter sfiorarla con semplicità, toccarla, abbracciarla e sedurla, come una ragazza qualsiasi che portavi al cinema o in discoteca, per darle qualche bacio e limonare. Ma quanto era ingannevole l'impressione del primo impatto. Con la stessa naturalezza con cui ti sembrava la ragazza da corteggiare nel cortile di casa, subito e con stile impalpabile, Laura diventava una regina che ti teneva a distanza. E confesso che, come tanti, incontrandola, mi sentivo in soggezione. Non era celebrata da tutti. Ci fu anche chi, ad esempio il saggista e critico dell'Espresso Giovanni Buttafava, provò a smitizzarla con drastica durezza. Era assurta simbolo del sesso italico, piccole porcherie esplosive fissate in un catalogo da variare all'infinito. A mio parere, Buttafava non aveva colto la genialità artistica di Sanperi e Parenzo e ancor meno il segreto del fascino di Laura. In generale, le opinioni sul caso Antonelli erano entusiastiche. Per esempio, Rodolfo Sonego disse «Era di una bellezza estremamente desiderabile e ingannevole. Poteva far perdere la testa qualsiasi uomo l'avesse incontrata». Altro esempio è Marco Giusti, che disse «Se non si spogliava, non esisteva». Lei stessa era consapevole del meccanismo. Del resto, era diventata una megastar. Recitava per Giuseppe Patroni-Griffi, Mauro Bolognini, Lucchino Visconti. Al massimo della carriera la volevano anche Dino Risi, Luigi Comencini, Sergio Corbucci. Riuscì a mischiare Commedia e Cinema Altissimo. Eppure anche questi maestri, con questi film coltissimi, la volevano sempre nuda, perché la venerazione per il suo corpo non veniva mai meno. Delicato e struggente, le ricordo, nel giorno della morte di Laura, dell'amica Michela, sua vicina di casa. Lasciava bigliettini sotto gli usci degli appartamenti. C'era scritto «Pregate Dio e la Madonna». Di solito, lei Dio lo chiamava Papino. Scarna e telegrafica, invece, la testimonianza di Jean-Paul Belmondo, con cui Laura ebbe la storia sentimentale più importante della sua vita. Nove anni di amore e passione in altalena tra litigi e riappacificazioni. Una compagna adorabile, dallo charme eccezionale. Fu una partner di grande qualità che tutti apprezzavano sui set. «Voglio conservare solo i meravigliosi ricordi». Pippo Baudo la ricorda così, come un fenomeno di bellezza e di freschezza. E racconta «Qualche anno fa la sentì al telefono. Mi invitò a recitare con lei il rosario. Mi accorsi che non vivevo un momento psicologico tranquillo». Nel corso della sua favola, prima festosa e poi senza letto fine, Laura, parlando della sua vita, ha mantenuto un'amirevole lucidità. Autocritica e spietata con se stessa, con distacco prima di tutto. Racconta di sé. «Ero ricca e famosa, ma vuota dentro. Uso il dolore come una spugna e un po' alla volta cancello le persone che mi hanno fatto soffrire. Tanti hanno abusato della mia bontà e forse anche della mia fragilità e dicono che non sono capace di intendere di volere. Io sono morta da anni. Mi farebbe piacere vivere in un modo più sereno e dignitoso, anche se a me la vita terrena non interessa più. Vorrei essere dimenticata. Forse non ero tagliata per fare l'attrice, non ero preparata ad affrontare quella carriera, il successo, la popolarità, quell'ambiente con le illusioni e le delusioni. Sono sempre stata una persona semplice, timida, attaccata ai valori della famiglia. Oggi per me esiste solo Gesù. Il passato mi ha regalato tanto, ma mi ha tolto molto di più. Sono bassina, un po' tondetta e ho le gambe piuttosto corte. Chissà perché piaccio. Ho un male nell'anima. Ho sempre la voglia istintiva di chiudere gli occhi e di ragomitolarmi in un angolo. Vivo con quanto mi basta. Il tempo del lusso è finito per sempre. Non mi servono più ville, panfili e bella vita. E ancora, sogno una nuova serenità che mi dia equilibrio e che mi permette di affrontare gli anni che verranno. La vecchiaia che, mi dicono i medici, cerca di aggredirmi. Di spirito mi sento appena a 40 anni. Voglio vivere tranquilla, amare Dio e pensare sempre positivo. Possibilmente un po' più libera. Sono felice. Ho lasciato tanti anni fa la strada sbagliata. Prima di passare al periodo più nero della vita di Laura Antonelli, percorriamo brevemente la sua carriera cinematografica. Laura Antonelli era nata a Pola il 28 novembre 1941 e morì alla Dispoli il 22 giugno 2015. Profuga, si trasferì con la famiglia Napoli e qui si diplomò come insegnante di educazione fisica. A Roma cominciò il lavoro di attrice. A 24 anni il matrimonio con l'antiquario Enrico Piacentini, nozze di breve durata senza figli. A seguire una breve relazione con il comico Mario Marenco, collega di Renzo Arbore alla radio in alto gradimento. Infine, la lunga storia d'amore dal 1972 al 1980 con Jean-Paul Belmondo. Nessun figlio. Caroselli per la Coca-Cola, numerosi fotoromanzi, esordio nel cinema con piccoli ruoli, a cominciare da Il Magnifico Cornuto di Antonio Petrangeli in 1964 e Le Sedicenni di Luigi Petrini in 1965. La prima parte importante arriva nel 69 e il regista Massimo Dallamano la vuole come protagonista di Venere in pelliccia. Ma tutto si dissolve per via di una severa censura che blocca l'uscita del film, riproposto sei anni più tardi con il titolo Le Malizie di Venere. La vera notorietà e il successo arrivano nel 1971 quando le viene affidata la parte della moglie del violincellista nel merlo maschio con Lando Buzzanca e regia di Pasquale Festa Campanile. Con Malizia 1973 diventa un'icona dell'erotismo all'italiana. A seguire Trappola per un lupo e sul set te conobbe Belmondo. Sesso matto di Dino Risi e Mio Dio come sono cadute in basso di Luigi Comencini e lo splendido Peccato Veniale ancora di Sanperi. La divina creatura di Patroni Griffi con una scena di nudo integrale dalla durata di ben sette minuti un record per l'epoca. E ancora L'innocente di Lucchino Visconti nel 1977 Gran Bollito di Mauro Bolognini e Passione Amore di Ettore Scola del 1981. In seguito commedie come Il malato immaginario e L'avaro di Tonino Cervi con Alberto Sordi protagonista. E ancora con Sanperi in Casta e Pura nel 1981 a fianco di Massimo Ranieri. A metà degli anni Ottanta comincia lenta e inesorabile la decadenza. Sempre più remoto il successo di Malizia che aveva girato accanto a Turi Ferro e al giovane pariolino Alessandro Momo. Il film aveva incassato sei miliardi di lire e Laura al vertice della carriera cento milioni a film vinse Il nastro d'argento come migliore attrice protagonista e Il globo d'oro come attrice rivelazione. Il trionfo fu turbato dalla morte di Momo che a soli 17 anni si schiantò in moto contro un taxi. Il finale della favola è malinconico. Nel 1991 Laura gira Malizia 2000 il sequel regge ancora dei Sanperi dell'antico trionfo. È un flop di critica e pubblico l'ultima apparizione cinematografica di Laura. Malizia 2000 doveva essere il film della rinascita la pellicola che avrebbe riportato Laura Antonella ai vecchi splendori. Purtroppo però fu solo quel tassello in più che fece sprofondare il suo stato d'animo e le sue condizioni di vita ancora più in basso. Nel corso della lavorazione al film si sottopose alle cure di un chirurgo estetico che le iniettò del collagene nel viso in modo da nascondere delle piccole rughe che l'età aveva portato con sé. Il risultato fu disastroso il bellissimo volto dell'attrice ne uscì completamente deturbato. Ci fu un lungo processo civile l'Antonelli denunciò il produttore e anche l'amico regista chiedeva un esarcimento di 30 miliardi per i danni dopo 13 anni il chirurgo estetico il produttore e Sanperi furono assolti. Ma ecco arrivare lo scandalo che finì per distruggere la sua carriera. Era la notte del 27 aprile 1991 nella sua villa di Cerveteri furono ritrovati quelli che in primo momento vennero quantificati come 50 grammi di polverina bianca in seguito si parlò di 36 grammi ecco il racconto che fece allora la Repubblica 50 grammi e un maresciallo con i baffi e gli occhi azzurri che trappola per Laura Antonelli ex diva nazionale della fantasia d'amore quando gli ha aperto non sapeva che fosse un carabiniere lo ha fatto entrare e lo ha guidato per mano attraverso le prime stanze in disordine poi nel vasto salotto col camino si è lasciata andare al ballo seguendo un'aria d'opera volteggiando davanti a lui vestita ad una tunica di seta di color perla fermarla è stato come sparare ad un uccello in volo via la musica fuori la testa di riconoscimento nel silenzio è risuonata secca la voce del sotto ufficiale signora Antonelli scusi cos'è questa polvere bianca e lei ridendo non lo vede è tanta polvere bianca per tutta questa gente che è venuta qui per girare un film ma nella grande villa ai piedi dei cerveteri chiamata a ritrovarsi non c'era nessuno il maresciallo ha detto in tono asciutto mi dispiace lei in arresto dopo qualche giorno ottenne gli arresti domiciliari in primo grado fu condannata tre anni e sei mesi nel 2000 dunque nove anni dopo venne assolta dalla corte d'appello di Roma la legge italiana sulla droga era cambiata e l'assunzione di sostanti stupefacenti entro i limiti stabiliti non era più reato se non accompagnata da spaccio frattempo l'Antonelli era stato al centro di un'altra vicenda giudiziaria l'arresto di un sacerdote e di una dottoressa accusati di circonvenzione di incapace per aver ottenuto da lei 15.000 euro da destinare a una missione religiosa una situazione che aveva spinto l'amico di sempre Lino Banfi a chiedere l'applicazione della legge Bacchelli la dotazione di un vitalizio che viene concesso a personalità dello spettacolo e della cultura che si trovano in difficoltà economiche ringrazio molto Lino Banfi disse Laura Antonelli tramite i suoi legali per l'iniziativa che potrebbe consentirmi una vita più serena il che mi farebbe piacere ma sinceramente vorrei essere dimenticata la bellezza ormai sfiorita e le vicende processuali provarono profondamente l'attrice Laura Antonelli cominciò a manifestare una forte sofferenza psichica così iniziò una lunga serie di ricoveri presso il centro di igiene mentale di Civitavecchia il 22 giugno 2015 Laura Antonelli si è spenta alla dispoli l'Antonelli sarebbe morta per un infarto nella sua casa dove viveva da sola da una decina di anni l'ultima a vederla è stata la badante è stata trovata nella camera da pranzo ha spiegato l'assessore ai servizi sociali del comune di Ladispoli Roberto Usai dalla badante poi è arrivato il 118 che ha constatato il decesso e poi i carabinieri l'autorità giudiziaria ha stabilito che ci sarà soltanto l'esame autoptico e non l'autopsia i funerali si svolsero alla dispoli nella chiesa che lei stessa aveva scelto tra i presenti tre persone a cui teneva moltissimo il fratello Claudio Lino Banfi e Claudia Coll Laura con un biglietto aveva chiesto di chiamare proprio loro il giorno in cui sarebbe morta a salutare l'attrice c'era anche Simone Cristicchi che proprio a lei aveva dedicato il brano Laura Crescenzo Pagliotta sindaco di Ladispoli dove l'attrice aveva scelto di vivere ha pubblicato su Facebook una foto in bianco e nero che ritrae la classe di liceo cuoco di Napoli dove Laura studiava dicendo un sorriso timido appena accennato il solo modo in cui vorrei renderle omaggio in questa foto un adolescente fragile che si affaccia appena alla vita che comincia a sognare il suo cammino forse l'immagine più vera tra tutte quelle che abbiamo visto finora a Ladispoli insieme al sindaco Laura non era sola in tanti le volevano bene un cittadino Livio così racconta il corriere siamo qui per salutarla l'abbiamo conosciuta quando viveva a Cerveteri spesso la notte veniva a prendere il pane nel forno dove lavoravo adesso Laura riposa nel posto che aveva già acquistato nel cimitero di Ladispoli se siete arrivati fino a qui vi ringrazio e se volete altri video mettete un mi piace ed iscrivetevi se lasciate un commento sappiate che vi leggo e rispondo a tutti kiss kiss e rispondo con l'attaccato con con un piatto le volevano perché vi ringrazio la notte Grazie a tutti